Il secondo incontro che modero con Roberto e Gigi per parlare di Mater Dolorosa, abbiamo alle spalle un po' di lavoro di Gigi, solo perché se avessimo anche del lavoro di Roberto voi non ci ascoltereste per leggere le cose scritte in piccolo, però a noi non piace mai fare sempre lo stesso incontro, quindi cercherò di non chiedervi le stesse cose, anche perché devo dire che quando abbiamo lavorato al libro l'editore deve fare il figo, deve far finta di sapere tutto prima, quindi non chiede nulla, magari dopo quando ci sono gli incontri pubblici riesce anche a togliersi delle soddisfazioni. Il mio punto di vista buono è il fatto che, lo sapete entrambi, io non sono un fan storico di Dylan Dogg, quindi non sono la persona a cui tenevo di più dire questa cosa nella vita, è stato Tiziano Sclavi e mi vuole bene, credo anche per questo, perché mi chiede delle cose che di solito gli vengono negate dagli altri perché lo adorano troppo. Ho una domanda in più parti per tutti e due, anche per carburare i pensieri della sala questa sera. Roberto, qual è la cosa più difficile da scrivere nel canone di Dylan normalmente? Partirò da domande generiche per arrivare allo specifico di questa storia. Il problema è proprio, nell'affrontare Dylan Dogg, accettare che non ci sia un canone, nel senso Tiziano quando ha costruito Dylan, l'ha costruito intanto in corsa, quindi per i primi nove, dodici numeri, il personaggio continua a cambiare, dallo sbruffone air-boiled che aveva immaginato inizialmente Tiziano, Dylan cambia tantissimo, quindi smette di dire ciao pupa, come dice nel primo albo, e diventa il personaggio che poi tutti conosciamo. Secondo poi Tiziano, essendo il creatore, e il creatore è Dio, quindi fa quello che vuole, quindi decide che il personaggio può essere incoerente, come tutti gli esseri umani sono incoerenti, Tiziano decide che Dylan spesso fa cose che normalmente non farebbe. Quando Tiziano ha smesso di scrivere Dylan Dogg e poi ha smesso di curarlo, tutta la generazione successiva degli autori si è trovata in una difficoltà palese, ovvero sia riuscire a cristallizzare e codificare un personaggio che era sostanzialmente incodificabile. E ci voleva il coraggio e l'incoscienza di capire che in realtà doveva avere anche l'arroganza, di dire ok, tu prendi il personaggio di Tiziano Sclavi e se vuoi rispettarlo, se vuoi rispettarne l'eredità, devi tradirlo. Quando con Tiziano abbiamo iniziato a ragionare sul rilancio di Dylan Dogg, la prima cosa su cui abbiamo iniziato a riflettere, spesso, e non ho scritto parecchio di questo argomento perché mi toccava spesso, era appunto il fatto che bisognava trovare la forma giusta del tradimento nei confronti del personaggio, cioè il senso dell'eredità, il senso dell'eredità di Dylan è tradire l'eredità di Dylan, è tradire il fatto di quell'idea cristallizzata. Io, è buffo da dire, nel senso il curatorio di Dylan Dogg non dovrebbe dirlo, ma io il Dylan Dogg pretino, che fa la morale a tutti, che è sempre corretto, che fa sempre la cosa giusta, non lo sopporto, è il peggior Topolino, è quando Topolino è scritto male. Dylan è un personaggio che deve sbagliare, deve essere incoerente, certe volte è un egoista, certe volte è coraggioso, come certe volte è un vigliacco. Fino al momento in cui qualcuno non si è preso il rischio, anche di prendersi gli insulti, perché fa parte del gioco, di dire, ok, io rischio, perché tanto non ho niente da perdere, il problema era quello, io non ho niente da criticare ai sceneggiatori venuti prima di me, ai curatori venuti prima di me, hanno fatto il miglior lavoro possibile nella politica di preservare il personaggio. Con Tiziano abbiamo deciso che il personaggio non doveva essere tenuto in una tega, ma la tega andava rotta, buttata in cantina e dimenticata. Quindi questo è il principio, secondo me, su cui è la cosa più difficile da fare, perché se non ci fosse stata quella lettera di Tiziano in cui mi diceva hai carta bianca, sei tu il mio capo, io non ci avrei avuto la forza anche effettiva di dire ok, rompiamo il giocattolo e vediamo se riusciamo a farlo funzionare una volta rotto. Tu l'hai fregato perché hai risultato questa lettera, hai fatto un, e hai detto quando cazzo arriva la prossima storia? Sì, esattamente. E lui ha detto ok capo e si è confuso. Si è confuso per un attimo, ha interrotto un silenzio di vent'anni. Sì, sì, io devo ammettere una cosa, la cosa più bella che ho ricevuto mai, tutte le lettere d'amore che uno può aver ricevuto nella vita, tutte le parole della madre migliori che te possano aver detto, non supererà mai la scritta di Tiziano allegata alla prima sceneggiatura che mi ha rimandato quando hai ricominciato a scrivere, che era sei il mio curatore, curami. E io ero così felice. Questa è una responsabilità abbastanza enorme. Ho una seconda parte per la domanda, però non voglio che Gigi si addormenti a questo punto, quindi ho una domanda in due parti per te. La prima è, quando tu hai accettato mentalmente il fatto che Roberto ti avesse chiesto di disegnare quella che sarebbe stata Mater Dolorosa, e in particolare l'albo dipinto del trentennale, tu a quel punto quante volte avevi disegnato Dylan Dogg? Sul serio, facciamo i conti della serva. Beh, quante copertine saranno uscite? Saranno uscite tre copertine. Io avevo fatto dei tentativi su Dylan qualche anno prima, anzi, appena entrato in Bonelli, perché stava nascendo il Dylan Dogg Color Fest. E l'allora curatore, Giovanni Gualdoni, con cui avevo collaborato prima che sia io che lui entrassimo in Bonelli, aveva detto, guarda, tu potresti andare bene per un progetto, perché sai anche colorarti le tue cose, adesso stiamo facendo una cosa pensata per il colore. Allora avevo cominciato a prendere quello che all'epoca mi sembrava il disegnatore più vicino al mio stile, che era Siniscalchi, che però non era proprio il disegnatore più adatto, secondo me, per cogliere Dylan, perché era abbastanza astratto. Sta di fatto che avevo fatto delle prove e erano cadute nel silenzio totale, tipo in un silenzio imbarazzato, che equivaleva a un... forse non sei ancora pronto per Dylan. Quindi, a parte quella cosa all'iniziale, avevo fatto tre o quattro copertine del Dylan Dogg Old Boy, e dopo di che, sì, effettivamente non... Qualche illustrazione. Qualche illustrazione mia, ma molto libera e furba, per cui non aveva nessuna pretesa di far passare quella specie di spaventapasseri per Dylan Dogg, perché tanto bastava la camicia... Se non fosse una cosa che Roberto ha fatto per vent'anni, direi che è un incosciente a prendere uno che, per quanto dal talento innegabile ha così poca esperienza con un personaggio così importante, affidargli una cosa così grossa. Però sappiamo che è esattamente quello che fa. Però io ho esordito in Bonelli con una storia scritta da me e disegnata da Massimo Carnevale, che era la prima volta che si è confrontato con Dylan Dogg. L'ho copiato da Mauro Marcheselli, a cui devo tutto. Però diciamo che Massimo all'epoca aveva forse più credibilità e affidabilità di quella che poteva denotare Gigi al momento. Ti giro una domanda simile a quella che ho fatto a lui, pur sapendo che non si può fare un'equazione tra lo scrivere e il disegnare così pedisse qua. Ora che te ne occupi in qualche forma tutti i mesi, e hai anche fatto una storia lunga, per quanto fuori dal canto non è la storia, qual è la cosa in cui un disegnatore coscienzioso e intelligente cade più spesso in una trappola disegnando Dylan Dogg, sia a livello puramente iconico che a livello della narrazione in una storia lunga? Ma qual è l'errore che può fare un disegnatore? Non so, dovrei fare un po' di mente locale perché dovrei tirare in ballo altri disegnatori. Però secondo me quello che non bisognerebbe fare su Dylan Dogg è avere un disegno troppo descrittivo, troppo normale, troppo banale. Secondo me in Dylan Dogg hanno sempre spiccato quei disegnatori che sono sempre andati un passo oltre alla semplice vignetta in cui, primo piano di Dylan, perché ci serve far capire che Dylan sta dicendo quella cosa lì, quei disegnatori che in realtà non ce ne sono, cioè Dylan Dogg è sempre stato, come faccio adesso a non parlare, a non cascare gli esempi? Perché io due o tre nomi che stai evocando li trovo però. Ok, parlando in termini generali, a me i disegnatori che hanno colpito più di tutti su Dylan Dogg sono quelli che hanno sempre cercato di comunicare col segno, col tratto, con dei neri affettati o sfumati, come Corrado Roy, quelli che hanno cercato di raccontare delle atmosfere, che hanno dato una recitazione diversa, qualcosa che anche nelle vignette mute o nelle sequenze mute che ogni tanto Tiziano utilizzava ti regalassero tanto al di là della storia. C'era un collega disegnatore che a un certo punto mi aveva detto no, io Dylan Dogg non lo voglio fare perché è sempre ambientato a Londra, in appartamenti, gente che parlano. lui lo vedeva come qualcosa di stranamente piatto. Un fotoromanzo. Esatto, come un fotoromanzo. Me lo immagino in televisione con il volto oscurato ma vestito da Tex, comunque, questo signore. Passate un secondo che non riesco a vedere nessuno, un attimo solo. Grazie. Ah, scusa. Stavo impazzendo, scusate. Quindi, secondo me un disegnatore dovrebbe regalare, dovrebbe essere un valore aggiunto in questo senso. Mi sono un po' incartato sul discorso disegnatore. Mi porge un ottimo assist per la seconda parte della domanda a Roberto. Tu hai la responsabilità di decidere chi racconta le storie di Dylan Dogg quando non stai dettando la linea in qualche modo. Vi chiedo queste cose sulle trappole perché il mito di Dylan è enorme e voi siete in questo momento le due persone più autorevoli che lo rappresentano. Uno nella buccia, ma tutto è tranne una cosa superficiale. Uno nell'essenza, ma devi occuparti di tutti gli aspetti. Quando stai correggendo il lavoro altrui, sia grafico che di scrittura, qual è la cosa che più spesso ti tocca rettificare o rimettere in carreggiata invece? Guarda, io purtroppo sono un curatore che usa un metodo piuttosto particolare. Nel senso, io leggo le cose dei miei autori, in particolare dei sceneggiatori, prima. Poi leggo il soggetto che mi mandano e approvo o non approvo. Poi a quel punto io li lascio scrivere. Una volta che hanno scritto, io poi, se la storia è debole o se la storia ha dei problemi, intervengo e cerco di aggiustare quella storia in maniera da farla funzionare. Ma l'esame è lì. Nel senso, io chiedo a tutti i sceneggiatori, una delle prime cose che ho scritto poi pubblicamente su Facebook, sul blog, ovunque, è il coraggio di rischiare. Nel senso, se tu arrivi con la manina tirata, con l'idea, sai, quella è quell'idea del forse è troppo coraggiosa, me la boccia, no, non mi fate farmi bocciare qualcosa perché preferisco... Non va bene. Cioè, non è Dylan. Dylan ci devi sanguinare, devi rischiare, devi rischiare anche di prendere qualche pomodoro. Nel senso, vi dirò una cosa che sembrerà una bestemmia, ma Tiziano per prima lo sa. Non tutte le storie di Tiziano Sclavi sono capolavori. Punto. È un dato di fatto. Non tutte le sue storie sono capolavori. Ci sono dei capolavori inarrivabili. C'è stata qualche storia che non gli è venuta come doveva venire. Perché? Perché, nonostante una tecnica eccezionale, un talento incredibile, Tiziano ha rischiato. E nel rischio c'è una piccola componente di possibilità di fallire, anche se sei Tiziano Sclavi. Quando uno sceneggiatore, un disegnatore, mi arrivano, io lo chiamo il braccino corto, e stanno lì un po' tesi, oppure stanno su una posizione... Negli anni 70 si direbbe borghese. Stanno su questa posizione in cui vogliono ottenere quella storiellina che funziona. Non funziona per me. Poi magari quella storia te la pubblico, ma non ne fai un'altra. Quella dopo ti dirò questa cosa non va bene. Alcuni sceneggiatori hanno provato delle cose che recentemente non si erano mai fatte. Tipo io ho una grandissima stima per chi mi porta delle cose che non mi aspettavo nei soggetti. Che non mi aspettavo perché in Bonelli non si facevano, non si sono fatte su Dylan Dove. Le leggevo Colconda e io penso che se Tiziano Sclavi non fosse stato il curatore di se stesso nell'attimo in cui apportò il soggetto di Colconda, io vorrei capire chi la poteva provare quella storia. Eppure una volta scritta funziona perfettamente. Quello è un insieme di incoscienza, fiducia nei propri mezzi e volontà di rischiare. Tiziano rischiava tutto, rischiava tutto ogni mese e ha ottenuto risultati incredibili. Dylan Dove non avrebbe mai raggiunto quei risultati se Tiziano non avesse rischiato. Nel rischio è compresa la possibilità di fallire, mia, di tutti i sceneggiatori che coinvolgo e di tutti i disegnatori che coinvolgo. Quando vedo il disegnatore che, o perché ci si è seduto, perché sono mille anni che fa Dylan Dove e sa che quello è il posto fisso, il mitologico posto fisso in Bonelli, o perché non vuole avere rogne, io la prima volta che vi di le tavole di Gigi, Gigi hai iniziato con me su Orfani. Per me Gigi, quando mi si dice a Roberto vede sempre i talenti prima, è bravo a individuare un talento perché l'avevo fatto su John Dove e poi ho continuato con Orfani. Gigi io l'ho totalmente lisciato. Lorenzo Bartoli mi diceva che era bravo, io facevo... L'ho completamente perso. L'ho rivisto quando faceva Cassidy, ho visto che era un disegnatore veramente figo. Figo, non eccezionale. Figo. Quando ero arrivato su Orfani ero moderatamente contento, dove c'è un disegnatore in cui ci vedevo tantissime cose di altri disegnatori che amavo molto, una scuola, una tradizione che amavo molto, normale. L'unica cosa che chiedeva a Gigi era, Gigi, perché medianista camera, l'inquadratura, sempre frontale, sempre dritta, sempre moderata? Osa, spostala, alzala, allarga la vignetta, svariona, divertiti. E Gigi all'epoca era chiaro che stava seguendo quello che credeva che in Bonelli servisse. E' finito a fattavole pittoriche su Orfani con una composizione folle. Sì, no, confermo tutto perché il primo anno in Bonelli è stato uno dei più belli, ma anche dei più brutti, perché ero entrato in Bonelli su una strada fatta tutta di consigli redazionali su come ci piacciono i disegnatori, tu guarda questo, tu guarda quello, si puntuale, cioè tutta una serie di raccomandazioni che in realtà mi avevano abbastanza ingabbiato. E il primo a dirmelo in faccia è stato Carlo Ambrosini, che lui ha questo spirito... Che Carlo è sempre un bell'occhio. Sì, nel senso che lui è uno che non ti condisce, non ti indora la faccenda, cioè se c'è da dirti qualcosa, se avete dei dubbi sul vostro lavoro, andate a Carlo Ambrosini, poi andate a casa, digerite tutto quello che ha detto, pensate se ha ragione oppure no. In quel caso lì, il giorno che l'ho conosciuto, gli avevo fatto vedere le tavole del mio primo volume Bonelli, e mi aveva detto sì, sì, tutto bello, tutto giusto, hai fatto un buon compitino. E io ho detto, insomma, che poteva anche essere un pochino più gentile e incoraggiante, però una volta tornato a casa ho detto... e non lo conoscevo. Pensavo. Intanto se ti teme è esattamente così, quindi era già un complimento. Sta di fatto che sono tornato a casa e a me piace fare così, cioè ponderare le cose a freddo. E effettivamente a freddo ho capito che aveva ragione, era un compitino perché ogni mossetta che facevo su ogni vignetta mi dicevo piacerà, non piacerà, andrà bene per la Bonelli, perché per anni da esordiente, da chi comunque aveva quello come obiettivo, avevo ascoltato tutte le limitazioni che si potevano avere. In Bonelli non si può fare. Tutta quella cosa che in Bonelli non si può fare. Piano piano sta cosa non mi è piaciuta, nel senso che cominciava a intristirmi la cosa. Nel frattempo su Cassidy c'era un collega che si chiama Andrea Borgioli, che quando ho visto le sue tavole ho detto, mio Dio, ecco cos'è che volevo fare io per anni. Quando ho deciso che mi sarebbe piaciuta entra in Bonelli, io volevo fare queste cose qui. Il secondo numero di Cassidy è andato molto meglio. Sono stato preso su Orfani, avevo ancora un po' di ruggine in questo senso, perché in qualche modo già ci sembrava di osare tantissimo facendo della fantascienza a colori, oh mio Dio, finché l'ultima botta me l'ha data Roberto, l'ultima spinta, dicendo sia un po' più dinamico, anche perché Cassidy aveva il respiro di un serial poliziesco degli anni settanta. Era un po' come fare quella bella televisione che ci guardavamo da ragazzini, mentre Orfani aveva quel sapore da bel filmone di fantascienza da vedersi al cinema. Quindi tutto questo era motivato. L'ultima spinta, se vogliamo, me l'hai data proprio su Mater Dolorosa, perché quando abbiamo iniziato la storia, io avevo ancora nella testa inevitabilmente le tavole di Massimo Carnevale. Quindi c'è stata tutta una fase di false partenze su questo volume, in cui venivano fuori delle tavole che erano mie, ma si vedeva che erano debitrici del lavoro di Massimo, anche di quelle poche tavole, ma bellissime, colorate, che sono state fatte apposta per il volume della BAO. Eravamo a Lucca di due anni fa, mi ha detto, no, ma io voglio una roba tua. Questa cosa qui è come se qualcuno ti spalancasse i cancelli, tipo, questo volume è casa tua, accomodati, non fai come ti pare, ma insomma sentiti libero. A quel punto ho detto, ah ok, vado, e allora sono andato. Ecco, a questo punto dovete capire, piccola digressione, che la Bonelli è molto cambiata negli ultimi anni, ma non poi così tanto, perché ci sono delle persone oggi dentro che ci lavorano dalla seconda guerra punica. Quindi, veramente, sono ancora in salute e non vanno in pensione. Quindi la cosa che dicevano di lui quando hanno visto il primo tavolo è stato quello che si dice di uno che stermina la famiglia di colpo. Sembrava tanto una brava persona. E che comunque, Roberto, ammettilo, Gigi è uno che ascolta i consigli, se hanno senso per lui. E' più facile fargli ascoltare consigli stilistici sul disegno che su qualunque altra cosa. Quando gli hai detto fai quello che vuoi nel rispetto della cosa, lui è una persona educata, ha rispettato, però ha effettivamente... Guarda, è un discorso strano, perché Gigi sembra una persona molto mite, molto tranquilla. In realtà poi è molto preciso, ha un'idea molto chiara di dove vuole andare, ha anche idee molto forti quando si parla di aspetto visuale. Però uno dei registri di Madere Dolorosa, io volevo che fosse la celebrazione e la consagrazione di Gigi Cavenaco. Cioè io in lui vedevo, e lo vedevo pagina dopo pagina, che mi arrivava, un talento incredibile. E io volevo che questo libro fosse una showreel assoluto di tutto quello che sapevo fare. Quindi ogni sequenza è pensata anche, è un terzo piano di lettura, ma è pensata per fargli esplorare, fargli mostrare una voce che c'ha. Quindi il pittorico da una parte, il super stilizzato con la grafica dall'altra, le atmosfere leggiadere, l'uso della luce, l'uso del colore. È veramente un lavoro pensato perché io voglio che la gente lo guardi e dica abbiamo un nuovo grande maestro in Italia. Un lavoro molto simile l'ho fatto anche con Monolith, con Lorenzo. Monolith è pensato e quando uscirà il secondo volume sarà ancora più chiaro perché in maniera da far vedere tutti gli incredibili registri che ha Lorenzo. Ma perché per me il fumetto sono parole e immagini, immagini e parole. Cioè io mi sono innamorato di fumetti guardandoli, poi leggendoli. Certo. E voglio che la gente quando veda un fumetto che ho prodotto, ho scritto o comunque ho in qualche maniera collaborato a creare, se ne innamori ancora prima di iniziare a leggerlo. Era palese nel seguirvi nella lavorazione, io non parlavo con te mentre lo scrivevi, però ogni tanto sentivo lui anche per prossimità geografica e anch'io speravo che il lato celebrativo delle sue capacità emergesse e sapevo che sarebbe stato completato, fammelo dire, solo con l'edizione CinemaScope in qualche modo. Poi quello che non avevamo calcolato è che dovevamo dargli un'aria più ieratica perché per quanto in questi incontri lui stia dimostrando, parlo come se non ci fossi per un istante e tu non te la prendere, una consapevolezza... e la risposta è sì, uno con il barbone, dieci anelli su dieci dita e che parla come un sacerdote. Capelli di fiamme e fulmini che escono dagli occhi. Tu devi capire che l'artista che somiglia a come disegni adesso, come hai dipinto questa storia, è uno che conosce delle arti occulte, non uno che tiene in mano una matita e poi un pennello. In realtà mi è capitato anche... all'epoca dei forum, quando ancora non c'era Facebook e tutto, frequentavo un forum graffite, si chiamava, da cui è uscita gente fantastica, tra cui anche Matteo De Longi. E il mio nome era Kagemusha, come film L'ombra del guerriero, perché era il primo film che ho visto nella libreria quando è stato il momento di inserire il nome. Quindi sei visto Zero Calcare come pubblicità. Stavo per dire la stessa cosa, c'è la prima cosa che avevi davanti e è diventato il tonic name. Sì, solo che adesso l'ho smesso in tempo, Kagemusha. Anche perché al primo raduno dei forum, la gente faceva questa cosa qui, diceva no, tu non sei Kagemusha, ma tu non sembri Kagemusha. No, sono io, sono io. E perché in pratica diciamoci, ho la faccia da ragazzino, però ci tengo che il disegno sia molto adulto, perché se non posso esprimerlo con la faccia, con sta baby face, no, voglio, cioè non dico che è voluta, non è che mi metto lì e dico voglio che il mio disegno sia, però effettivamente riesco a mettere delle cose che a parole suonerebbero poco credibili. Mader Morbi e Mader Doloroso, disegnate da due disegnatori più potenti che conosco e con cui ho l'onore di aver lavorato e uno è Massimo Carnevale, l'uomo più umido del mondo, e l'altro è Gigi. Sì, Massimo Carnevale è un uomo sul quale tu svetti come statura, che ti dice seriamente che lui è un operaio. È più basso di me, no? Sì, è parecchio più basso. Massimo e io abbiamo avuto il massimo momento, il sommo momento di comunione quando io gli ho parlato delle mie esperienze da operaio e lui delle sue. E lì era eccitato più che quando parlavamo di fumetto, veramente. Per cui siete, allo stesso tempo, agli antipodi è molto simili, cioè non somigliate alla reputazione del vostro segno. Ma guarda, un po' deve essere così, il vero artista deve essere mite. Scusate, era ironia. Sì, probabilmente sì. Carburate le domande, perché tra un po' ci stuferemo di pettinarci a vicenda, anche se in realtà tutto questo è molto bello in questo momento. Entrambi avete detto una cosa, l'aveva detto Roberto a Milano e pensavo che fosse un atteggiamento, non nel senso di una cosa affettata e falsa, ma un modo per sgabbiare da una richiesta del pubblico. Lui ha detto che stava guarendo dalla scrittura di Mater Dolorosa quando uno spettatore gli ha chiesto se stesse scrivendo dell'altro di Dylan in questo momento. Oggi tu hai detto la stessa cosa. Perché questa storia scandisce un prima e un dopo? Al di là della data tonda e dell'occasione, della responsabilità di cui Tiziano vi ha investito, la domanda è per tutti e due. Allora, vabbè, per quello che riguarda me, per quello che riguarda la scrittura di Mater Dolorosa, ci sono delle difficoltà evidenti, che poi racconto anche nel volume, ovvero che era il seguito della mia storia, che poi ha creato letteralmente la mia carriera insieme a John Doe, che è Mother Morby, e il fatto che era il trentennale di Dylan. Poi c'è un altro fatto, che è Mater Dolorosa, è scritta quasi all'antitesi di come io sto scrivendo in questo momento. Nel senso, il mio principio di scrittura oggi, che sta andando sempre più verso un versante estremo, è una scrittura molto semplice, molto ultra asciutta, con delle trame minimali che vanno dal punto A al punto B, io mi trovo perfettamente rappresentato in questo, penso che sta a diventare quasi eversivo nel contesto Bonelli, che invece vuole trame strutturate. Io faccio sempre gli esempi musicali, quando scrivo non so perché, però oggi come oggi, per me scrivere è un'idea dei Ramons, cioè voglio un pezzo da due minuti e mezzo, con un ritmo devastante, che ti porti alla fine e tu ti sia divertito nella carica energetica. Mater Dolorosa, non vi dico i Dream Theater perché li odio, però è Black Sabbath, cioè è un pezzo con infinite stratificazioni, in cui ha un piano di lettura, stiamo parlando della mitologia di Dylan Dogg, un altro piano di lettura, sto intersecando la mitologia di Dylan Dogg con la mia personale mitologia, a un altro piano ancora c'è il piano tecnico, per cui la storia è piena di tecnicismi reali, proprio di sceneggiatura, che io non racconto mai perché è roba per farsi le seghe tra detti ai lavori quando gli gira, ma ci stanno, sono cose che inevitabilmente ti metti lì e godi perché hai fatto quel montaggio che passa da qui a qui, perché quella vignetta è in verticale, su quell'altra funziona, perché il tempo di lettura l'ho controllato in una certa maniera, quindi è una scrittura faticosa, è una scrittura faticosa iperstrutturata, che è benissimo rappresentata dal lavoro di Gigi, che di solito è un disegnatore ultrasintetico, perché Gigi va verso la sintesi, e invece su Mother Dolorosa va nella schitarrata, nella solo di 15 minuti. Lui le ha detto che ha fatto i Dream Theater in qualche punto. Sì, sì, sì. No, io evito l'esempio di Dream Theater perché mi annoiano da morire, quindi prendi Black Sabbath, che è la mia ragiondessa. Ci sta perfettamente. Per te perché uno spartiacque? Beh, per me è facile, nel senso che, come dicevamo prima, è stato l'esordio totale, senza nessun rito di passaggio, se non quelle tre copertine che già erano un esordio spaventoso. Diciamo che di solito quando le cose si muovono in maniera canonica c'è sempre un tempo di rodaggio, quindi ti mettiamo magari su una storiella da 30 tavole a colori oppure su una serie regolare, su uno speciale, così ti fai le ossa, conosci il personaggio, poi se piaci ti affidiamo qualcosa di diverso, quindi qualcosa di un po' più morbido. Questa cosa qui è stata importante, era già importante sulla carta, cioè trentennale, il seguito di Mater Morbi, una cosa a colori, quindi penso che sarebbe stata importante per qualsiasi disegnatore già nella serie, la cosa che ha atterrito me è stato proprio il fatto che ho iniziato con quello e viste le premesse non poteva neanche, cioè la grande paura era di steccare proprio sulla solo, se vogliamo continuare con gli esempi musicali, cioè con il faretto puntato e tutta l'orchestra dietro, quando magari uno preferirebbe fare, non so, dei gorgheggi in una stanzetta più piccola, quindi niente, è stata la sfida dell'esordio e poi questa occasione che si è presentata di poter mettere, di poter quasi tracimare, di poter mettere dentro un sacco di cose che mi sono sempre piaciute ma che non avrei mai pensato di poter inserire in un fumetto, intanto per l'uso del colore, per l'uso del pittorico, per certe scelte cromatiche, cioè come dico anche nei contenuti speciali del libro, il fatto di averlo saputo con un anno d'anticipo, non la storia, non quello che mi aspettava, ma di dover fare una cosa di questo genere, ha fatto sì che io vivessi quell'anno con le antenne tesissime, che ogni cosa che mi capitava sott'occhio la soppesavo per dire chissà se potrebbe tornarmi utile oppure no. Praticamente ogni cosa era mirata, ogni cosa che, al di là del lavoro che già stavo facendo, ogni cosa che vedevo, che sentivo, ogni illustrazione, ogni idea che mi capitava davanti, la archiviavo in varie cartelle del computer perché in qualche modo avevo intenzione di metterci più di quanto poteva essere preventivato, proprio perché se a un certo punto dovevo steccare, volevo avere appunto tutta un'orchestra dietro che magari coprisse anche quella steccata, forse era, forse da un certo punto di vista è una bella strategia creativa, dall'altro è anche un modo di appunto pararsi le chiappe perché potevo contare non solo sulle mie idee ma su tutte quelle che ho trovato attorno e a un certo punto avevo così tanta roba che era anche difficile evitarle. In un altro incontro c'è stato chi mi ha fatto una domanda e la risposta mi è venuta un po' dopo. Mi aveva chiesto quali di tutte queste cose avevo dovuto rinunciare, di tutti questi riferimenti. Io avevo un sacco di roba di Francis Bacon che prima o poi ho detto il prossimo primo piano di D&D malato magari gli metto delle spennellate alla Francis Bacon o cerco di fare qualcosa però c'è un limite a quanto si possa fare e quindi a quello lì ho dovuto rinunciare però sono state queste due cose l'esordio e la possibilità di metterci un sacco di roba in un fumetto popolare. Primo siamo in tre sul palco e quello che ha detto la parola chiappe era l'ultimo su cui avrei scommesso. Ti rendi conto che hai un carisma incredibile perché ti è stata affidata non con leggerezza perché Roberto lo può fare con leggerezza in una riunione editoriale e dire la facciamo fare a Cavenago e aspetta che gli altri facciano no non è pronto e non ci sarebbe pensato due volte in realtà tu sei uno che trasmette la sensazione che se gli viene dato un compito lo porterà a termine al punto da potersi permettere di integrare nuove influenze in corsa e anche scartare delle cose perché ha capito che più di così è troppo cioè è la saggezza degli ignomi e sei illuminato nelle tue scelte perché come dicevo prima quando Roberto mi ha detto fai una cosa tua cioè era l'occasione della vita e se fosse andata male se questo tizio che non ha mai disegnato per Dian Dolf fosse se fosse fatto una figuraccia avrei dato la colpa a Roberto tipo non doveva affidarmi tanto c'ho le spalle larghe in effetti è un piano perfetto esatto però voi viene rendete conto io vi guardo è bellissimo è veramente bellissimo lavorare con voi senza se senza ma anche quando devo fare le corse quando vi devo ricordare che venerdì qualcosa va in stampa e mi sento una merda però una volta io vi guardo da un po' fuori perché la logica Bonelli non è la mia normalmente di lavoro una volta ogni cinque anni qualcuno nota una cosa Bonelli facendola uscire dai confini e cinque anni fa era Patagonia di Boselli e Frisenda per dire è l'ultima volta che è successo prima che succedesse a voi e non lo dico perché entrambe le abbiamo ripubblicate poi noi è proprio che è palese mi ci metto per orgoglio il lavoro di Accardi perché è incredibile sì verissimo però anche lì vinco comunque però la cosa proprio che ogni tanto anche quelli che per snobismo intellettuale non guardano le cose Bonelli mai devono notare qualcosa e in questo caso hanno una parte dove ovviamente ammettere così i denti stretti che una cosa che hai fatto tu è veramente bella dà proprio fastidio a certa gente poi ci sei tu dove cazzo viene questo non c'era fino a ieri è come un fungo venuto dopo la pioggia ed è uscita una delle storie la cosa bella del volume che abbiamo fatto in BAU non è che l'abbiamo migliorato ad era facile compri la carta migliore del mondo chiami l'autore in tipografia a tarare i colori per forza viene bello il libro è come quell'unità funziona al di fuori di un mensile con tutto che tu hai voluto dovuto intriderla di riferimenti di cose per cui se sei un lettore storico sei ricompensato ulteriormente di non easter egg nel senso di sorprese sul futuro ma di ammiccamenti per il passato che era non un dovere per forza però una cosa che se sei capace di farlo ricompensa tutte le fasce del lettorato però funziona perfettamente sta ve lo dico perché quelli li sento io sta funzionando perfettamente con chi legge questa storia come la sua prima o quinta storia di Dylan Dog nella vita per dire quindi avete portato a casa qualche cosa che avrebbe richiesto in una gestione non di un'azienda che per quanto enorme come la Bonelli è comunque un'azienda a gestione familiare il proprietario si chiama come la casa editrice in un'azienda dove ci fosse stato un marchio che è un brand ci sarebbero stati cinque anni di riunioni al vertice per dare l'ok alla prima parola scritta da te figuriamoci per farla disegnare a uno che io ricorderò ero bambino lessi il texone disegnato da Aldo Capitanio che quell'anno aveva 42 anni la biografia un po' più lunga dei cenni che ci sono gli editoriali normali Bonelli diceva un giovane della nostra scuderia io avevo 14 anni questo ne aveva 42 e pensavo ma come giovane quindi tu sei uno spermatozoo per l'età Bonelli stanno mai incominci a essere vecchio hai un anno più di quelli che aveva Capitanio quando ha fatto quel texone quindi voglio dire comunque sei un bambino sei un virgulto quindi avete in mano in questo momento il destino di un'entità che è parte io salgo sui taxi gente e dopo 200 metri a Milano il tassista mi chiede che faccio nella vita io pubblico l'autore più letto d'Italia gli ultimi 20 anni tolta l'edicola e nessuno sa nessun tassista sa chi sia poi dicono Black Macigno anche i tassisti di 28 anni non so perché e funziona così con i tassisti voi avete l'unico nome che se faccio quello ogni tassista mi porta più contento a destinazione quindi beh oddio c'è pure tex tex e zagor se l'abbatto guarda credimi i tassisti 28 anni sanno Black Macigno ma non sanno tex e zagor sul serio è una cosa però avete in mano un'icona fondamentale che ha trasceso l'essere umano di riferimento lo scrittore che l'ha creato c'è più gente che sa che fa Dylan Dogg quest'anno che chi l'ha creato veramente io racconto come più esotico alla figura di Liziano Sclavi che il fatto che esista Dylan Dogg come vivete questa responsabilità momento di silenzio è complesso nel senso non ho mai pensato di diventare il curatore di Dylan Dogg pensavo che a un certo punto ho pensato che sarei potuto essere un buono sceneggiatore di Dylan Dogg il modo in cui sono diventato il curatore di Dylan ero gambolesco lo raccontavo mille volte fa parte di un tiziano scontento di dove stava Dylan un tiziano che aveva voglia di rivedere Dylan vivo e che mi chiede insieme con Maure e Cristina se volevo farlo io che gli dico ma magari no chiaramente quel magari no è falso come quando rifiuti il secondo sgommarello di tua madre nel senso magari no vediamo se me lo richiedono vuoi farlo il curatore Dylan Dogg? sì perché c'è il dubbio che non te lo chiedono una terza volta quindi la prima fai no la seconda accetti e non è semplice nel senso io ho dei vantaggi nel senso sono cresciuto con l'idea che sarei morto presto quindi tutta la mia vita è stata giocata sul ma chi se ne frega mi carico il rischio mi carico mi carico la possibilità di come dicevo prima di sbagliare di caricarsi tutto e che poi è quello che ha attirato Tiziano nel senso con Tiziano si discute si discute in termini vivi abbiamo discusso di come doveva andare Dylan di come doveva svolgersi le cose abbiamo discusso della responsabilità che ha Tiziano nei confronti del personaggio e che secondo me doveva tornare a scriverlo però non è Tiziano non era proprio abituato a qualcuno gli diceva Tiziano allora perché generalmente non è senza non è particolarmente furbo farlo come non è furbo andare a a irritare la platea tradizionale di Dylan Dong a dire sì ma io voi non amate Dylan Dong ma della vostra adolescenza io la vostra adolescenza non ve la posso da quindi vado da un'altra parte non è la cosa più intelligente da fare però per tenere Dylan vivo e i risultati ci stanno dicendo che funziona il meccanismo era necessario quindi il punto primo penso che sia perché sono stupido il punto secondo perché sono un motociclista e quindi non ho il senso di proteggere me stesso dalle cose che ci stanno intorno ma quindi tendo ad andare molto veloce il punto terzo è perché ho una visione e quella visione è una visione produttiva io quando mi incastrano a parlare non che non lo faccia volentieri perché tutti sanno benissimo quanto io ami parlare volentieri però quando mi incastrano a parlare del mio lavoro io parlo sempre del lato produttivo perché per me il lato produttivo è dove poi si decide tutto quindi oggi per me Dylan Dong è un buon esempio di applicare un piano un piano che viene da orfani che viene dalle cose che ho fatto prima dei orfani e che va avanti quindi è un laboratorio aperto come lo era stato John Do peraltro una lezione importante poi una lezione anche di Dibb nel senso Lorenzo Bartoli scusate ma ha sempre insegnato che quello che ti dà il mercato tu glielo devi ridare che se il mercato ti dà una possibilità poi tu devi dare una possibilità a qualcun altro a me il mercato mi ha dato mille possibilità e cerco di trovare autori nuovi sceneggiatori nuovi poi lo cerco con durezza nel senso non so gentile e comodo con nessuno degli autori nuovi che arrivano però la ricerca continua lo vedete tutte le pagine sul mensile lo vedete con la persona che ci ho studiato accanto io sono lo ammetto sono davvero orgoglioso del lavoro di Gigi sono orgoglioso del lavoro di Gigi non perché penso di essere proprietario del suo talento o in qualche misura partecipi del suo talento sono orgoglioso perché ho dato a quel talento il modo di dire oh va c'è stanno 94 pagine bianche che puoi riempire come ti pare certo c'è la mia sceneggiatura ti dico qualche cosa che vorrei o non vorrei ti do qualche indicazione per raccontarla ma poi è il tuo linguaggio io ogni volta abbiamo fatto un al di là di adesso che sto parlando per troppo però ogni volta abbiamo fatto un incontro cerco di far parlare principalmente Gigi perché per me madre dolorosa è un libro di Gigi prima che io gli chieda una cosa quando iniziamo le dediche ricordami che devo dirti di qualcuno che ti vuole regalare una moto non sto scherzando ok ho testimoni Gigi tu ogni mese una moto vera? sì mi ero dimenticato questa cosa ma una cosina una cosina però poi la facciamo tu ogni mese devi vestire un mito io mi ricordo quando mi hai detto mi stanno per proporre questa cosa sono nel panico e io pensavo ma già la stai facendo in realtà e il bello è che io a volte ho una fede cieca che rasenta il religioso in quello che tu puoi fare ce lo sono nei tuoi confronti fonderò un culto su di te perché effettivamente io ti dicevo tu lo stai già facendo e quando ho visto le prime due era qualcosa di completamente diverso da quello che stavi facendo anche se a Milano si è messo su una poltroncina nella sua posa di Landog in poltrona con Gruccio dietro e gli ho detto dio una tua posa e tu non te ne sei accorto perché non ti vedi da fuori sì con le punte delle dita un po' inarcate in avanti era proprio te l'ho visto fare in almeno due immagini c'ha anche le Clark come? c'ha anche le Clark c'ha anche le Clark sì sì perfetto cioè sta diventando il personaggio tu ci hai spiegato che i lacci devono essere rossi però a parte questa cosa la mia domanda è non è una domanda sul percorso sul processo creativo normale quando hai ricevuto la consegna per una copertina intanto quanto è lunga non l'ho mai chiesto però vorrei che lo dicessi tu non quello che te la manda quanto è dettagliata la consegna per una copertina del mensile e poi quali sono i primi pensieri al di là di Cristo sono fregato quando stai iniziando coscientemente a ragionare alla copertina della serie regolare ma intanto ti ringrazio che hai la fiducia cieca nelle mie capacità perché io non ce l'ho nel senso che è facile è visto da fuori perché vedete lavori selezionatissimi ma le schifezze le vedo costantemente tutti i giorni quindi scusate ti interrompo non fare come The Prestige che dice che ci sono cento cloni morti ci sono sono mille ho un aneddoto su questa cosa perché ha appena toccato una delle cose che mi hanno fatto più ridere sempre delle storie di Gigi perché gli faccio Gigi ma scusami qual è il tuo dubbio sei un disegnatore bravissimo qualsiasi cosa disegni è bellissimo è Gigi no sono bravo perché il disegno che ho posto è bello ma ne ho scartati cento prima che sono brutti quindi non sono bravo ho fatto cento disegni brutti e uno bello è un problema di percezione quindi sei velocissimo in realtà quindi è statisticamente un disegnatore di merda però per quello che posta disegno tanto ecco sono produttivo no il fatto è che allora la mia percezione cioè qui proprio si va sul piangersi addosso lo so però la mia percezione è sempre quella che cioè adesso mi sto rendendo conto che piano piano qualcosa ho imparato però è molto difficile guardare quello che si fa e in teoria servirebbe molto tempo per fare ogni volta un refresh su quello che stai disegnando nel senso che se c'è qualche disegnatore in sala sa benissimo che tu magari hai fatto una vignetta e dici è venuta perfetta dopodiché vai un attimo a farti il caffè non nel mio caso vai un attimo in bagno ti fa una telefonata torni e vedi tutti i difetti di quella vignetta io però del solito l'ho già spedita sì questa è una tecnica del tipo appena hai l'idea che io però non ce la faccio anzi c'è un aneddoto di una delle ultime copertine che ho consegnato che avevo fatto una faccia di Dian proprio brutta e per fortuna però la redazione mi ha chiesto di sistemare quella cosina sullo sfondo che si sovrappone male che poi la scritta si sovrappone male devi proprio cambiare sposta quella riga sullo sfondo io ok è venerdì sera sono le 5 e mezza giusto ho rifatto tutta la faccia di Dian fino alla 1 e mezza e mi è venuto il panico perché ho pensato se non me la restituivano quella sarebbe stata la prima copertina che veramente mi avrebbe reso diciamo triste demoralizzato tattino incazzato perché effettivamente in questo senso siamo molto diversi perché io vorrei la mia tendenza è quella di voler ponderare bene ogni cosa per poter fare centro al primo colpo ora con i ritmi produttivi della Bonelli e di Roberto mi sto abituando a non non ti devo rivela una cosa non è il ritmo produttivo io ti dico le cose all'ultimo perché se no tu non salti ok va bene però c'è anche quel rischio lì di mandare ok no ti sto solo raccontando un approccio poi può essere il ragazzo sta capendo delle cose ok però niente io ti sto raccontando quello che succede qui dentro che è l'ideale l'ideale in un mondo ideale in un mondo ideale tu non lasceresti mai il tuo disegno no non è vero lui è pragmatico lo farebbe a un certo punto quello che mi piace non è vero ti fermo perché nel sentirevi discutere è bellissimo perché quando Roberto ha detto cos'è successo nella testa di Tiziano quando gli ha fatto la proposta ha detto chiaramente quello che io parafraserò con troppa gente che lavora su Dylan pensa buona la prima e non è sempre buona e quindi ragiona poco tu sei uno che fa cento versioni nella sua testa spero solo nella sua testa prima di consegnare una copertina una tavola un pezzo che a me piace effettivamente al di là dei dei è una cosa di carattere a me piacerebbe tanto mi piace sviscerare le cose una che è una cosa che sono riuscito a fare per esempio per le copertine di questa edizione cioè poter anche buttare via tutto sul finale semplicemente perché ho sbagliato così tante volte che ho trovato la soluzione giusta e in quel momento è come se passasse la fatica perché quando hai trovato la direzione giusta tutto il resto è in discesa ed è una sensazione bellissima ed è quasi una roba di ricerca è come andare in un labirinto ma con la tranquillità di poter anche imboccare quella strada che poi è un vicolo chiuso e poter ritornare indietro e il problema appunto in molti casi con le scadenze è che devi consegnare proprio nel momento in cui ti stavi veramente divertendo su quella cosa lì oramai il segnale è se cominci a divertirti tra virgolette se ti sta piacendo troppo rimanere su quella copertina lì evidentemente è ora di consegnare se ti stai divertendo ora poi è masturbazione manda vai avanti appunto per quello è bello scusa voi non lo sapete ma questo scambio è avvenuto esattamente come è avvenuto con le copertine io Roberto ha un tale flusso di informazioni da elargire nella giornata che risponde neanche degli haiku dei suoni gutturali monosillabici e invece Gigi spiegava tutto quello che stava mandando io dicevo per etichetta non dirò la mia fino a che non avranno discusso tra loro poi ho pensato le sto pagando io se poi potevo dirgli una cosa glielo dico e Gigi spiegava Roberto diceva sì no di più di meno e io pensavo ora Gigi si incazza stavo lì che aspettavo invece Gigi ha vinto perché alla fine la copertina regular è quella ragionata da curatore di Dylan Dog che si sta prendendo il suo spazio autoriale e poi Roberto ti ha dato un assist fantastico che è stato per la variant fa quello che ti pare purché la regular sia questa e tu hai detto quella stile Urania ti ho sentito urlare per mail ho sentito la Senago Milano vibrare di voce e hai fatto il pezzo che volevi quindi lì sei andato molto chirurgicamente sì sì come dicevo un'occasione per prendersela comoda tra virgolette sono state le copertine dell'edizione BAU quindi adesso sono pronto si può tornare a correre e tutto quanto l'ha detto aspetta aspetta chiedigli che copertina sta disegnando adesso come? chiedigli che copertina sta disegnando adesso cosa stai facendo ora Gigi? allora sto facendo una doppia copertina del crossover di Dylan Dog e Dampir aspetta è quella per cui ti hanno chiesto più vichinghi? no non è quella comunque fa parte di un progetto di un discorso a quattro copertina che c'è nella copertina? allora ci sono almeno ci sono almeno sei Dylan Dog e sei Dampir che si alternano più una una folla di vampiri che hai notato che ho citato quello i vampiri di Ambrosini e poi dietro c'è tutta Piccadilli Circus anche quella cosa lì mi è un po' sfuggita di mano perché pensavo di farla un po' tu sei consapevole che il 25% di quella copertina è coperto dal titolo e dal logo vero? sì sì lo so e però sì c'è anche questo che magari che poi io ho un approccio molto poco razionale in queste cose qui nel senso che se comincio a pensarle prima è come se praticamente il mio pensiero razionale blocca un sacco di idee interessanti mentre quando la mano comincia ad andare sulla tavoletta a cancellare bene o male qualcosa che neanche te ti aspettavi può arrivare quello è un momento bellissimo nel senso ho avuto un'idea ma in realtà ti è arrivata quasi senza sforzo sai ogni tanto si legge di queste teorie il lobo sinistro il lobo destro il sinistro non sa quello che fa il destro e più o meno è così il pensiero automatico queste cose qui a volte succedono non sa